ciao a tutti amici del verde quante volte siamo passati davanti a quei balconi fioriti di gerani e abbiamo anche provato un po' di invidia abbiamo detto beh magari ce le potesse avere anche io questa bella fioritura oggi la andiamo a vedere andiamo a vedere tutti i trucchi e segreti per avere dei gerani meravigliosi sia che noi andiamo a coltivare in pieno campo quindi sul nostro giardino che è invaso anzi li avremo meglio degli altri andiamo subito a vedere il video tutti quanti i trucchi e i segreti coltivare questa pianta è semplicissimo nel box informazioni vi metto tutti quanti i link che servono per andare a fare la cura del nostro geranio di tutto questo balcone belle fiorita andiamo subito al video eccoci qua ragazzi partiamo video un po' lunghetto ma vi do tutte le indicazioni per coltivare il vostro geranio allora innanzitutto prima di acquistarlo dobbiamo solamente pensare a due cose il posto dove andremo a mettere deve essere in pieno luce in pieno sole anche va benissimo non ama la zona d'ombra è una pianta che viene dall'africa e quindi noi dovremmo rispettare questo clima la seconda cosa è che noi dobbiamo offrirgli un terriccio molto molto drenante odia i ristagni idrici quindi come vedete le cose sono molto molto semplici per andarlo a coltivare con successo ci sono molte varietà ci sono le piante quelle che crescono un po di più che sono alte fino a 40 50 60 centimetri le piante un po più piccole compatte i colori diversi ci sono i fucsia i tigrati addirittura anche quelli profumati e comunque se fate una bella siepe nel vostro giardino anche loro con il loro profumo riescono a tenere lontane le zanzare quindi riepiloghiamo sia che noi li andiamo a mettere nel giardino che noi li andremo a coltivare sul terrazzo o sul balcone la zona deve essere molto luminosa esposizione diciamo verso sud sud est quindi se noi la dobbiamo andare a coltivare sul giardino ci dovremo preoccupare di essere in quelle zone climatiche dove l'inverno è mite questa pianta e sotto gli 8 gradi deperisce sul balcone invece in caso in cui noi abitiamo in zone fredde la possiamo andare a coltivare perché poi tanto l'inverno dal nostro balcone la pianta nel vaso l'andremo a riporre all'interno della casa o in una zona protetta arrivati a casa ragazzi dovremmo cominciare a pensare a svasare la pianta avremo tempo una settimana circa 10 giorni perché generalmente le radici sono molto molto folte quindi ben presto occuperanno tutto quanto lo spazio del nostro vasetto e la pianta inizierà ad assorbire male gli elementi nutritivi e le annaffiature quindi cominciamo ad organizzarci ammettiamo che noi la vogliamo coltivare questa splendida pianta nel vaso occorrerà prendere un vaso che abbia un diametro di almeno 20 centimetri se invece sono quelli lunghi e rettangolari sarà sufficiente una larghezza di 15 centimetri e la lunghezza chiaramente varierà dai 40 50 60 centimetri a seconda diciamo la vostra struttura in acciaio che è appesa all'esterno del balcone oltre al vaso e al sottovaso ci serve anche l'argilla espansa che dovrà fare lo strato drenante che andrà posizionata sul fondo del vaso ed il terriccio universale che dovrà avere un pH tendenzialmente verso il subacido quindi un pH che sta tra il 6 e il 6 e mezzo semplicissima all'operazione mettiamo 3 cm di argilla espansa sul fondo del nostro vaso adesso posizioniamo uno strato di terriccio posizioniamo il vaso il panno radicale al centro del vasetto quindi la nostra pianta starà perfettamente al centro e andiamo a mettere intorno intorno il nostro terriccio quindi tre quattro centimetri sul fondo del nostro vaso eccoci qua adesso la prima cosa importante da fare prima di andare ad estrarre la nostra piantina dal vaso è quella di notare se sotto il vaso ci sono delle radici le dobbiamo andare ad eliminare altrimenti qui per fare l'estrazione della pianta le potremo andare a rovinare tutte quindi una volta che ho eliminato le parti delle radici che escono dai forellini premo intorno con la mano il mio vasetto ecco qua guardate voi che apparato radicale che ha le grattate un pochino ci siamo a questo punto poggiamo noi la pianta sul fondo dovremo andare a stare in questo momento molto attenti perché il pane radicale e quindi il colletto della pianta dovrà stare a filo del vaso del profilo superiore del vaso un paio di centimetri più in basso ok prima chiaramente di proseguire con l'operazione del rinvaso vi dico subito che se voi non avete del terriccio già fertilizzato io sto usando un terriccio fertilizzato con un organico e lo dovrete chiaramente fertilizzare voi come potete fare ad esempio con del buon letame maturo di equino perché è bilanciato negli elementi nutritivi principali azoto fosforo e potassio e nutrirà perfettamente la pianta altrimenti cercate quei chiaramente terricci già fertilizzati e vi siete tolti il problema mettiamo il terriccio intorno al nostro vaso mantenendo la pianta al centro ed iniziamo a riempire i vuoti circostanti pressate ben bene il terriccio intorno al vaso non esagerate ma deve essere comunque compatto il lavoro finale che dovrete ottenere è questo qui ossia la pianta che sta al centro dovrà essere leggermente più alta dei bordi esterni in modo che l'acqua se c'è un leggero ristagno non sta proprio dove c'è la parte del fusto del geranio che esce fuori e del suo apparato radicale perché la pianta del geranio soffre molto di marciume radicale quindi fate questa piccola duna questo piccolo dosso al centro del vaso quindi tenete più alta la pianta rispetto al terriccio laterale e vedrete che la vostra pianta non si ammalerà di questa patologia fungina al rinvaso terminato ragazzi annaffiamo per la prima volta abbondantemente dobbiamo ben inumidire il nuovo terriccio però è una cosa molto molto importante sul geranio sono le annaffiature come abbiamo detto è una pianta che viene dall'africa preferisce stare più alla luce al sole che avere radici bagnate quindi annaffiamo solamente quando ne ha bisogno quando ne ha bisogno quando il terriccio inizia ad essere molto asciutto potete fare la prova dello stuzzicadenti io infilo questo grande stuzzicadenti all'interno del terreno se io quando lo tiro fuori lo trovo che il terreno è bagnato e aderente allo stuzzicadenti non dovrò annaffiare perché so che il terriccio già è umido per conto suo se invece lo tiro fuori che è come se fosse questa parte qui quindi non c'è nulla di aderente come terriccio allora vado ad annaffiare un'altra cosa importante quando noi andiamo ad annaffiare in modo abbastanza frequente quando è da maggio a settembre perché lui emetterà sempre continuamente nuove foglie nuovi germogli e nuovi fiori quindi anche bisogno di acqua chiaramente cerchiamo di farlo a fine serata quindi prendiamo la nostra acqua a temperatura ambiente quindi la possiamo anche prelevare dal rubinetto il giorno prima e sarà a temperatura ambiente e andiamo ad annaffiare magari in tarda serata in modo che anche il terriccio del geranio sarà ad una temperatura non eccessiva quindi non soffrirà di questi sbalzi termici e soprattutto li sente se questo vaso sta a contatto con i raggi solari quindi in serata facciamo questo bel bagnetto questa annaffiatura al nostro geranio e vedrete che lui si risolleverà perché a tutta poi la notte per rinfrescarsi e prendere umidità pian piano dal terriccio durante le annaffiature evitate di bagnare le foglie perché poi sono sviluppo di patologie fungine soprattutto come oidio e botrite date acqua solamente nella parte del terriccio dell'apparato radicale. Per chi ha la possibilità di andare a mettere la pianta nel giardino è semplice l'operazione da farsi l'importante è che l'inverno le temperature non siano troppo rigide se sono comunque troppo rigide al limite mettete un mini tunnel per proteggere la vostra pianta in inverno semplicissimo da fare la messa a dimora basta fare una buca larga 30 cm ed altrettanto di profondità e andarci a mettere la nostra pianta di geranio prima però andiamo a mettere sul fondo 7 8 cm di quel terriccio universale che avete visto e poi ci andremo a porre sopra la nostra pianta di geranio così almeno sul fondo avrà uno strato molto drenante. Il nostro terriccio io ho questo già fertilizzato se dovete farlo voi con un terriccio normale chiaramente lo andrete a fertilizzare con del buon stallatico di cavallo e poi eccoci qua la nostra pianta di geranio cerchiamo di rompere un po le radici di togliere questa vorticità che hanno intorno all'apparato radicale in modo che possano finalmente espandersi in tutta quanta la terra che noi gli andremo a mettere intorno posizioniamo la pianta sul fondo dovremo chiaramente sempre stare attenti che la parte dell'apparato radicale superficiale sia più alta del piano di campagna dovremo proprio avere la pianta messa in un piccolo dosso in modo che non c'è mai ristagno di acqua. Ho finito di accostare all'apparato radicale tutto intorno alla buca il terriccio che avevo fatto poi un misto con il terreno e il terriccio perché lo vedevo un po pesante adesso do una bella annaffiata. Una cosa ragazzi se avete l'impianto di irrigazione per il vostro prato e secondo voi è eccessiva quell'acqua per il geranio al limite mettete un telo protettivo di quelli impermeabili neri intorno ad una zona dell'apparato radicale in modo che l'acqua non è troppa e la vostra pianta non soffrirà di ristagno idrico invece crescerà su bella fresca e rigogliosa. è una pianta chiaramente generosa come si dice cioè produrrà molti germogli nuovi getti fiori boccioli e chiaramente a questo punto deve essere anche ben nutrita. Allora lo faremo e durante la fase di vegetazione quindi da maggio a settembre con un concime che può essere o liquido da dare quindi insieme all'acqua o granulare e se lo mettiamo granulare lo possiamo distribuire nel lato intorno alla nostra pianta e con l'acqua lui poi in piano si scioglierà. Invece se lo vogliamo diluire nel nostro annaffiatoio, nel nostro spruzzatore, utilizzeremo la quantità indicata nel concime che abbiamo comperato, comunque sempre un concime equilibrato quindi azoto fosforo potassio 445. Regolatevi un po' voi, comunque le indicazioni generali sono che ogni 20 giorni io vado e con l'annaffiatura anche a fertilizzare la pianta, vedete che crescerà su bella fresca e rigogliosa. Durante la crescita la pianta chiaramente metterà sempre nuove foglie, nuovi gruppi di boccioli, nuovi steli fioriferi, nuovi fiori però chiaramente come cresce anche si invecchia quindi ci saranno delle foglie che inizieranno a diventare gialle, degli steli che inizieranno a seccarsi, allora dobbiamo fare la potatura, la facciamo proprio durante la periodo vegetativo, quindi quando noi andiamo ad annaffiare osserviamo la nostra pianta, se notiamo che ci sono delle foglie vecchie che stanno seccandosi, quindi sono già gialle o sono spezzate, noi le andiamo a togliere, come si fa? Semplicemente un paio di forbice, anche queste qua da cucina, le disinfettiamo con alcol etilico e andiamo a fare l'operazione di potatura. Semplicissimo da fare, prendiamo quest'altra pianta che è da ancora rinvasare, vediamo, osserviamo questa foglia qua già inizia ad essere gialla, inizia ad essere un po' appassita, vediamo che anche una delle prime nate è quella più vecchia e io la vado ad eliminare a circa un centimetro dal ramo principale, non andiamo mai a ferire il ramo, dobbiamo solamente togliere la parte della foglia appassita. La stessa cosa di potatura andrà fatta sul fiore che oramai si sta seccando, quindi l'eliminazione dello stelo fiorifero, come si fa? Adesso faccio solamente una simulazione, non taglio questo fiore perché chiaramente ancora deve sbocciare, però vi faccio vedere il punto di taglio, quindi io mi seguo il mio fiore che oramai si sta seccando, è appassito e lo vado sempre a tagliare alla distanza di circa quel mezzo centimetro, quel centimetro dal gambo principale, in modo che sono sicuro che non lo ferisco, quindi lo taglierò in questo punto qua. Durante poi la crescita la vostra pianta potrà anche sviluppare dei rami molto alti, quando sono troppo alti e noi vogliamo ricompattare la pianta possiamo andare a fare l'eliminazione della parte apicale della nostra pianta, come si fa? è un modo semplicissimo da farsi, si prende e si toglie direttamente la gemma apicale del ramo, in questo modo la pianta emetterà di nuovo sopra le ascelle nuovi rami che saranno poi fioriferi e quindi la pianta vi si ricompatta. Vi faccio vedere quanto è semplice l'operazione, mi prendo il mio ramo che sta crescendo troppo in alto con un paio di forbici, vado solamente ad eliminare la parte apicale in questo modo qui. Ora qua sotto la parte delle foglie nelle sue gemme ascellari la pianta emetterà nuovi germogli, quindi le metterà due o tre, cresceranno su in forma molto più compatta e la nostra pianta avrà di nuovo un bel aspetto compatto, fresco, ricoglioso e pieno di fiori. Il peggior parassita è indubbiamente una larva di una piccola farfalla che può distruggere addirittura in un solo anno un'intera pianta di geranio, perché queste larve penetrano all'interno del fusto del geranio, ne mangiano proprio il midollo centrale, quindi la pianta appassirà in breve tempo e si debilita totalmente. Chiaramente andare a notare queste piccole larvette, questi piccoli bruchi sulla pianta non è semplice, sono davvero piccoli, sono 5, 6, 10 mm, 12 mm al massimo, però vi do una dritta, se voi sul vostro gambo notate che c'è un piccolo forellino, potete star certi che lì all'interno c'è questa larva. Come si elimina? In un modo totalmente biologico, si elimina con questi bacillus, questo è il bacillus turigensis della varietà curstati, oppure con lo spinosad. Altri insetti che possono colpire la nostra pianta di geranio sono gli afidi, tutti li conosceremo, sono quei piccoli insetti che vanno dal verde al brunastro, che si raggruppano soprattutto nei giovani germogli e nelle tenere foglie, che con le loro punture tropiche vanno a debilitare la nostra pianta, che succede? Che le foglie inizieranno insieme ai giovani germogli un po' ad appassire e raggrinziscono, si seccano e cadono. Come possiamo mandarle ad eliminare in un modo totalmente biologico con il sapone molle potassico, questo è un insetticida che è utilizzato in agricoltura biologica perché è considerato innanzitutto un corroborante, quindi migliora le caratteristiche della pianta nelle loro difese immunitarie e poi è selettivo, ossia uccide solamente gli insetti dal corpo molle. In tutti quei casi, vi sto mettendo qui sopra il link di come si utilizza, dicevo in tutti quei casi in cui noi abbiamo la paura di perdere la pianta perché gli afili l'hanno ricoperta completamente, possiamo andare ad utilizzare un insetticida un po' più potente, è sempre biologico, è un estratto di radici di questa margherita, però questo qui a questo punto è un insetticida che è da contatto e non è più selettivo, quello che coglie coglie uccide, quindi dobbiamo andarlo a dare soprattutto in tarda serata, quando le api non gironsolano, vi sto rimettendo di nuovo qui sopra il link per vedere come si utilizza il piretro verde. Un altro insetto che attacca la nostra pianta del geranio, soprattutto quella sui terrazzi molto assolati, è il ragnetto rosso, molto difficile da vedere perché è molto piccolo, occorre una lente per andarla a vedere, però se le vostre foglie iniziano ad avere delle piccole macchioline che all'inizio sono gialle o rosastre, sia sulla pagina superiore che su quella inferiore, e su quella pagina inferiore voi notate delle piccole ragnatele, allora state sicuri che c'è l'attacco di questo acaro, il ragnetto rosso, è semplice ragazzi da andare ad eliminare, basta anche con uno spruzzatore, con il getto molto forte andare a fare un bel lavaggio della nostra pianta, il ragnetto rosso odia l'acqua, in caso voi non ci riusciate potete sempre andare ad utilizzare un insetticida assolutamente biologico che è l'olio di neem, vi sto mettendo qui sopra la scheda di come si utilizza questo fantastico estratto. E passiamo ad un altro insetto, speriamo che sia l'ultimo ragazzi, che può andare ad abitare sulle nostre piante, è la mosca bianca, facilissima da riconoscere perché ragazzi se voi toccate la vostra pianta e si smuove una nuvola di piccoli moscini bianchi, quella è la mosca bianca, è sempre un insetto che punge la nostra pianta, quindi la debilita, ma è importante soprattutto andarla ad allontanare perché è un vettore di virus. Vi sto mettendo qui sopra il link di come si elimina la mosca bianca, anche con metodi diciamo molto molto casalinghi e se la cosa diventa invece molto più importante possiamo andarla a debellare con il sapone molle potassico, se la cosa è ancora più forte come attacco possiamo andare ad utilizzare l'olio bianco, che è un olio minerale, oppure passiamo direttamente al piretro verde. La pianta del geranio soffre chiaramente anche di patologie fungine, ad esempio l'oidio, l'oidio come si presenta? Si presenta come una patina bianca sopra la nostra foglia all'inizio con delle piccole macchie che poi pian piano si allarga, è dovuta soprattutto a questo fungo che si sviluppa in condizioni di alta umidità, però è molto molto semplice andarla a debellare, basta prendere del bicarbonato di potassio in soluzione acquosa, quindi prendiamo un litro di acqua, ci sciogliamo 0,5 per cento di bicarbonato di potassio, quindi 5 grammi di bicarbonato di potassio e lo andiamo a nebulizzare in tarda serata sulla nostra pianta di geranio. Facciamo questo trattamento, lo ripetiamo tre volte, distanziate un trattamento dall'altro di sette giorni e avremo risolto il problema in modo del tutto biologico. Un'altra patologia fungina che può colpire la nostra pianta è la botrite o muffa grigia cosiddetta, la notiamo perché sui giovani steli compariranno delle aree brunastre, inizia proprio il giovane germoglio o la foglia a seccarsi completamente, è una patologia che è molto violenta sulla pianta del geranio, però si riesce a controllare anche in modo molto semplice, quindi si possono fare le prevenzioni sempre con il bicarbonato di potassio, quindi prendiamo il nostro litro di acqua, ci aggiungiamo 5 grammi di bicarbonato di potassio e andiamo a trattare la nostra pianta, se la notiamo invece la sua presenza andiamo a fare l'azione di eradicazione, quindi andiamo proprio a debellare, faremo questo trattamento sempre un litro di acqua, 5 grammi di bicarbonato di potassio, andremo a trattare tre volte la nostra pianta distanziando i trattamenti l'uno dall'altro di sette giorni. Una brutta patologia fungina per il geranio è il marciume radicale, quello che vi avevo detto sin dall'inizio, come si presenta il marciume radicale? Si presenta al colletto del geranio sui fusti con delle aree depresse, necrotiche acquose che vanno pian piano a far marcire tutta quanta la nostra pianta, come vi avevo detto in genere è sempre dovuto ad un eccesso di ristagno idrico, quindi c'è qualcosa che non va e che non va, che può essere che non funziona o magari il terriccio è un terriccio che ristagna acqua e quindi dovremo andare a migliorare la fase di drenaggio di questo terriccio, magari ricambiandolo, oppure può essere che noi stiamo annaffiando troppo quindi dovremo diminuire le annaffiature, comunque ci sono dei prodotti che sono adatti per curare questa pianta, non sono chiaramente biologici ma vi sto mettendo qui sopra il nome di come si chiama. Infine possiamo avere sulla nostra pianta un'altra patologia fungina, si chiama la ruggine, semplice da riconoscere perché sulle foglie compaiono delle piccole macchioline appunto di color ruggine, dall'aspetto polveroso, generalmente è una malattia che deve essere curata perché debilita facilmente la pianta e quindi occorre subito andare a dare dei trattamenti a base di rami, quindi poltiglia bordorese, ossicloruro, rami chelato, quello che voi riuscite ad avere o acquistare nei vivai o nei garden. Un piccolo trucchetto ragazzi, se la vostra pianta di geranio non fiorisce ma invece mette molte molte foglie e molti steli potete star certi che ha scarsità di illuminazione, lei vuole molta luce, la sintesi clorofiliana se viene a mancare fa sì che vegeterà invece di fiorire, quindi magari riponetelo in una zona dove riesce a ricevere più sole più luce. E chiudo qui ragazzi questo video molto molto interessante e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanellina in modo che vi avverte dei nuovi video quando io li carico, ci vediamo al prossimo video negli ultimi sei secondi, sempre link interessanti ed anche di tutte quanto alla parte delle descrizioni dei prodotti che io ho utilizzato e che non sono riuscito a mettervi nelle schede, ci vediamo alla prossima, un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, ciao ragazzi da Pier Giorgio, ciao!